Rispetto all'anno precedente, su un totale di domande che sostanzialmente era uguale perché si discostava solo di sei domande complessivamente, abbiamo potuto dare un contributo a 102 aretini italiani in più, il che vuol dire che 102 famiglie aretini di vecchia data o presumibilmente aretini proprio da sempre hanno avuto questo contributo. E' stato definito il nuovo schema aggiunta a Ghinelli ed ha visto l'aggiunta ai criteri regionali per quanto riguarda i contributi per l'affitto nel comune di Arezzo di un'ulteriore clausola, cioè quella di rendere conto dei propri beni all'estero come già avvenuto per l'assegnazione delle case popolari. Un nuovo criterio che ha portato ad un aumento percentuale degli italiani aventi diritto e contributi, il 74% dei beneficiari nella gradatoria provvisoria, è costituito infatti da aretini di lunga permanenza. Gli italiani era già così, per i non italiani no e questo ci ha permesso di poter avere una verifica anche su chi pur facendo richiesta aveva un patrimonio all'estero immobiliare e se il patrimonio immobiliare in Italia è determinante come un elemento per perdere un po' di punti non vedevamo perché non fosse necessario anche per gli altri. E quindi se chi chiede un contributo affitto ad Arezzo e ha una proprietà a Brindisi veniva in qualche modo a scalare, non si capisce perché chi chiede un contributo ad Arezzo e ha una proprietà in Albania non doveva scalare. Oggi scala e scalando si riparifica in maniera equa la distribuzione di queste risorse. Del resto, come dire, la povertà è cambiata. Negli ultimi anni la povertà degli aretini e segnatamente di coloro che sono nati e cresciuti qua è una povertà che non è inferiore a quella anche di coloro i quali sono venuti nel nostro paese giustamente per avere un futuro migliore. Però noi abbiamo sempre applicato il criterio del primo agli aretini che è anche un criterio di equità che ci dice che chi più ha soggiornato in questa città ha pagato le tasse per più anni, ha contribuito per più anni, è stato qui, ha lavorato per più anni, nel momento in cui ha la parità dei bisogni non può scivolare sempre in fondo come era precedentemente.